Pressione in aumento sul Mediterraneo centrale, il transito di una perturbazione a nord delle Alpi determina la formazione di un minimo relativo sul Golfo Ligure con un flusso minte ed umido sul litorale toscano. In Toscana lunedì 3 ottobre parzialmente nuvoloso sulle province centrosettentrionali, poco nuvoloso altrove, ampie schiarite dal pomeriggio, venti deboli variabili in rotazione dai quadranti settentrionali, mari mossi con moto ondoso in attenuazione, temperature pressoché stazionarie nei valori minimi e in lieve aumento le massime con punte di 24-26 gradi nell'interno. Sul territorio provinciale da nuvoloso fino a poco nuvoloso o sereno, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 15, massima 25 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 14, massima 22, a Via Regge sul litorale minima 17, massima 24 gradi, martedì sereno o poco nuvoloso, salvo transito di velature.